la strada giusta il nostro è un percorso che ci ha portato lungo questo escursus ad affrontare una serie di fenomenologie di problematiche sociali che unvestono un po il nostro paese e non solo a tutto fondo e anche oggi toccheremo una tematica quanto mai attuale ci occuperemo di autismo e lo faremo con l'ospite che ci ha raggiunto questa mattina in studio che saluto e ringrazio Pasquale Schiano benvenuto a Nuola TV benvenuto alla strada giusta presidente dell'associazione genitori autismo ischia dell'autismo fortunatamente grazie anche all'attività che svolgono tante associazioni sparse sull'intero territorio nazionale si comincia a saperne sempre di più ad averne una percezione più marcata puoi però spiegare magari a qualche telespettatore un po meno attento più distratto in estrema sintesi per quanto è possibile che cos'è l'autismo buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità perché parlare per l'autismo per noi è fondamentale e determinante più se ne parla più si viene con più se ne viene a conoscenza più ognuno di noi ha quella contezza per poter aiutare tutti tutte le famiglie che sono che combattono con l'autismo quotidianamente l'autismo scientificamente si definisce disturbo pervasivo dello sviluppo cioè che praticamente i ragazzi in alcune aree praticamente hanno dei deficit dove non riescono a comunicare non riescono a socializzare non riescono ad essere autonomi in tutto e per tutto l'autismo però va detto che è un grosso calderone dove un po con questa parola si definiscono una serie di difficoltà che i ragazzi incontrano da livelli molto gravi al livello meno gravi quindi anche su questo bisogna saper fare bene una distinzione e capire che l'autismo ha tante sfaccettature e noi dobbiamo combattere in maniera determinante e in maniera proporzionale per ogni sfaccettatura Pasquale come siccome hai appena detto è un gran calderone quindi non è un qualcosa adesso mi passerai forse la sciocchezza che sto per dire che ne so come il mal di denti un qualcosa di facilmente individuabile allora ti chiedo come si diagnostica e soprattutto poi come come ci si relaziona come si cura tra virgolette allora gli ultimi studi arrivano quasi a diagnosticarlo quasi nei primi mesi di età addirittura si parla di uno studio americano che ho letto di si fa una diagnostica fetale addirittura dell'autismo perché si parla di una componente genetica però questo è tutto un divenire perché non abbiamo ancora delle certezze è un percorso ben chiaro quello che è il percorso medico comunque il primo che deve accoggersi di tutto questo è il pediatra perché il pediatra quando porti un bambino di 16 mesi 18 mesi è lì che ha i primi input i primi segnali che possono far scattare un allarme poi la vera diagnosi viene strutturata quasi a tre anni perché ci vuole tempo per diagnosticare l'autismo e ci vuole tempo anche per capire quanto è grave o che tipo di deficit ha il bambino, il neonato in questi casi quindi il percorso diagnostico è veramente complesso è proprio da lì che si deve iniziare da subito a capire quando si scattano i primi segnali l'asilo, la scuola, il pediatra, la famiglia è lì che noi dobbiamo subito intervenire parli di segnali volendo proprio essere come si dice a Napoli terra terra ecco quelli proprio più visibili e più marcati quelli che anche un genitore non essendo un medico non essendo un esperto non essendo un pediatra può non voglio dire averne certezza perché quello chiaramente come per qualsiasi cosa è affidata sempre all'edia ma può cominciare ad intuire può cominciare ad avere un sospetto il primo sospetto conosciuto è che quando viene chiamato il bambino insomma non si gira non ti guarda negli occhi e ha dei comportamenti ossessivi questi sono gli ossessivi intendo per esempio che non gioca in maniera consona con i giochi con la macchinina non usa la macchinina in modo consono ma ne mette una dietro l'altro per esempio sono dei segnali dove ti fanno capire che qualcosa non va che bisogna indagare e cercare di approfondire questo tipo di problematica ma i primi segnali sono questi qua il mondo associazionistico che tu rappresenti in una realtà territorialmente circoscritta come l'isola di Schia ma circoscritta da una parte ed evoluta fortunatamente dall'altra che input ha dato io dico sicuramente nella conoscenza di questa patologia enorme perché poi è normale che una serie di iniziative servono se non altro a far conoscere un qualcosa anche a chi non è al corrente però ti chiedo questa consapevolezza poi cosa ha prodotto in termini concreti ad Ischia come nel resto d'Italia anche se Pasquale lo posso dire prima off records a telecamere spente mi diceva che poi tutto sommato la situazione non è omogenea ci sono realtà un po' più avanti e altre che invece sono un po' più insomma col freno a mano tirato noi dobbiamo considerare una cosa che all'interno delle associazioni ci sono i genitori in genere sono composti da genitori e i genitori hanno quella grinta quella voglia di poter dare un'opportunità in più al proprio figlio questo praticamente è il catalizzatore è il motore la spinta che l'associazione può dare qualcosa in più ovviamente le associazioni si trovano a lottare con la burocrazia che questo lo posso testimoniare personalmente che è complicatissima e noi in realtà come Ischia la prima cosa che abbiamo tentato di fare come associazione è creare rete creare rete non solo sul territorio ma su tutto non solo sul territorio isolano ma su tutto il territorio nazionale per noi la rete è fondamentale, determinante, ci abbiamo lavorato tanto abbiamo creato veramente adesso una rete che si estende non solo in Campania ma oltre e questo fa sì che condividiamo le esperienze, condividiamo i successi, condividiamo gli insuccessi questo che fa la differenza alle associazioni e questo che deve fare le associazioni Cosa fa la ricerca? Cioè me lo chiedo perché ecco nel campo per esempio dei farmaci tumorali tu hai bene in mente che cosa devi fare se devi studiare un nuovo farmaco per il mal di testa il progresso che cosa ti porta a fare a brevettarne uno che magari invece di fartelo passare dopo mezz'ora te lo fa passare dopo due minuti l'antibiotico è l'antibiotico, l'antinfiammatorio è l'antinfiammatorio andare dallo psicologo piuttosto che dallo psichiatra serve a questo piuttosto che a quello ma in questo caso invece come si sviluppano studi e ricerche? E sono mirati, perdonami, soprattutto a cosa? Infatti stavo sottolineando proprio questo, ci sono due macro aree una è la genesi, dove è prettamente scientifica la cosa quindi prettamente medica dove si cerca di capire perché a un certo punto si sviluppa questa problematica dell'autismo c'è sicuramente, si parla di una componente genetica ma si parla soprattutto di una componente ambientale che questo testimonia anche i numeri che sono aumentati negli anni e sono incrementali questi numeri e su questo io vorrei interromperti un attimo per capire meglio perché un po' di chiacchierata anche su questo ce lo siamo fatti poco prima di andare in onda parlavi di numeri che sono esponenzialmente aumentati prima si parlava di un caso ogni 136 bambini vedi che ho buona memoria, adesso si sono addirittura ogni 72 bambini adesso ogni 136 bambini di fatto io non so in quale arco di tempo ma presumo che non sia sicuramente un secolo molto meno, si sono praticamente raddoppiati questi casi io chiedevo anche a Pasquale se per quelle che sono le sue conoscenze visto che poi in quanto genitore ha studiato a fondo la materia questa fosse una patologia che esistesse magari anche quando noi eravamo bambini o quando magari erano bambini i nostri padri e non ce ne fosse consapevolezza e tu lo hai pressa poco escluso questo significa che se c'è un fattore genetico e questo fattore genetico ce lo stiamo portando dietro da una sola generazione è evidente che col tempo rischia di moltiplicarsi a dismisura Sì, i numeri veramente sono cambiati totalmente negli ultimi dieci anni io di questo ne ho buona conoscenza perché quando ho scoperto l'autismo perché per me l'autismo prima era una parola vuota l'ho dovuta riempire negli anni questa parola attraverso le mie esperienze personali e ti posso dire che dieci anni fa si parlava di un caso come hai detto tu ogni 130 e c'erano numeri altissimi adesso sono numeri impressionanti sembra una pandemia riprendo una parola che è di moda adesso sembra una pandemia perché adesso parliamo uno ogni 72 significa che a Ischia per esempio un territorio come il nostro Ischia ogni anno ci saranno 10-15 nuovi praticamente ragazzi con autismo e questa è una cosa che fa impressione fa paura anche perché Pasquale parla di pandemia qua attenzione quello dico veramente a beneficio dei pochi che non lo avessero capito qua non parliamo di un qualcosa di contagioso che si trasmette altrimenti ci sarebbe anche una razio ci sarebbe anche una logica e se a che cosa può essere è soltanto la genetica che secondo te ha causato questo c'è qualcosa altro assolutamente no c'è una contaminazione ambientale di sicuro che viene da parla uno studio americano che è uno studio interessante che ho seguito tantissimo e mi ha anche appassionato che parla da contaminazione di metalli pesanti cioè attraverso quello che mangiamo attraverso i pesticidi attraverso quelle che è proprio il contesto dove si vive perché ci sono dei contesti dove i numeri sono totalmente diversi per esempio prendiamo i paesi meno sviluppati tipo paesi del continente africano il continente asiatico hanno dei numeri totalmente diversi rispetto per esempio agli Stati Uniti i Stati Uniti sono degli Stati gli Stati Uniti se non ricordo male lo Stato della Florida se non sbaglio che parla di numeri addirittura uno al di sotto dei 72 uno ogni 65 quindi questo è matematicamente dove si vive dove si vive allo Stato brado se mi passi il termine il fenomeno è meno marcato e accentuato anche per far capire di cosa parliamo a chi ci sta guardando perdonami la domanda nuda e cruda però siamo qua anche per questo siamo qua soprattutto per questo la vita di un genitore che ha un figlio autistico bella domanda questa è la domanda del secolo troppo non poteva mancare mi duele ma non poteva mancare ci sta guarda io ci penso spesso a questa domanda mi sono fatto un'idea che la vita di una famiglia con un ragazzo autistico o con un ragazzo con una disabilità in genere diciamo è una vita di eccessi si vive per eccessi perché mi dici perché provi l'eccesso della tristezza l'eccesso della sconfitta l'eccesso del vedere tutto ciò che ti circonda in maniera negativa poi all'improvviso tuo figlio dopo io proprio in questi giorni mi è successo ho pensato mio figlio mi dice tante cose e quando mi ha detto la prima volta ciao papà per me è stato un eccesso di gioia che ho provato e non la dimenticherò mai più questa è proprio per dire che oltre al quotidiano perché il quotidiano è fatto di tante sconfitte di battaglie continue tu sei il genitore 24 ore su 24 devi avere una forza questa è un'energia che è difficile che riesce a sostenere per sempre hai bisogno dei momenti di pausa e per questo io dico che si vive di eccessi perché tu ogni istante hai un eccesso di sensazioni però facevi una considerazione il saluto ciao papà che mi porta a chiedere un'altra domanda che presumo rivolgerebbe in questo momento il telespettatore medio a Pasquale così insomma a chiunque fa parte di un'associazione ma poi alla fine ecco come questa patologia come si migliora come si argina se si ha mi pare di capire di sì però assolutamente sì allora io ho capito negli anni che la cosa importante è lavorare sulla patologia la cosa importante è crederci ma veramente crederci con tutto con tutto se stesso questo porta a una cosa che è scientificamente provata quando io lavoro su un'area come dicevamo prima del bambino io ottengo dei successi con persone specializzate con metodologie consolidate riconosciute dall'istituto superiore di sanità che segue le linee guide della che tipologia di progressi porta poi seguire un determinato cliché allora noi dobbiamo considerare che abbiamo una strutturazione fatta di si chiama praticamente le nuove terapie si chiamano terapie comportamentali le terapie comportamentali è composta da un'equipe di persone da un gruppo di persone perché una sola persona un terapista anche eccellente non può ottenere risultati dove l'equipe è strutturato da una serie di figure dove ci stanno siamo il supervisore per esempio dove c'è lo psicologo dove c'è l'intervisore dove c'è il terapista dove ci sono i genitori dove c'è la scuola e tutti insieme devono concorrere devono andare per mano verso quell'obiettivo che viene fissato prima io dico mio figlio sarà in grado di leggere entro sei mesi e utilizzo una tecnica una metodologia scientificamente provata per ottenere quel risultato questo qua è una cosa che dobbiamo capire bene cioè che il lavoro va fatto insieme tutti insieme tutti quelli che ho detto in più la società civile le persone che vivono insieme a noi le persone che sono che vivono il nostro vicino di casa ci deve aiutare perché l'autismo diciamo la cosa più brutta dell'autismo è la solitudine la solitudine che genera solitudine su solitudine perché anche i familiari delle volte quando fanno un compleanno non sempre chiamano perché sanno che può disturbare può essere e questo genera anche nei genitori che spesso non partecipano a tante cose perché hanno paura che il figlio possa non essere adeguato a quello che è l'ambiente invece noi la società civile deve aiutare i nostri vicini deve aiutarci in questo mi hai dato l'assist per farti una domanda forse imbarazzante forse fastidiosa forse sto anche per dire una sciocchezza ma non credo quante volte di fronte a una patologia del genere bisogna combattere con la negazione del genitore che per primo magari specialmente quando ecco l'autismo si manifesta in una forma come dicevi tu molto poco accennata quindi magari sai la si riesce anche non voglio dire a nascondere ma a giustificare allora quanto bisogna combattere alle volte con la negazione di un genitore che magari non vuole ammettere l'evidenza specialmente quando l'evidenza lo ripeto è poco marcata perché tu comunque mi parli di vari livelli di scala e che tipo di consiglio vuoi dare oggi a questo tipo di genitore che immagino anche dalla tua fisiognomica occolto che esista di sicuro allora questa è una fase che passano tutti i genitori senza nessuno escluso è la fase iniziale è la fase più complessa e l'accettazione di questa problematica è capire dove ti trovi ed è è lì che noi cerchiamo sempre di trovare i genitori io quando ci parlo cerco sempre di dire esci fuori non diventare anche non diventare autismo veramente non entrare anche tu nella solitudine e questa è una fase importantissima perché molti anche io all'inizio mio figlio non aveva queste diciamo caratteristiche marcate io non nascondevo lo dicevo a nessuno tentavo di nascondere e cercavo di minimizzare anche io tutte quelle che erano queste sfaccettature invece questa è una cosa da non fare assolutamente perché l'intervento deve essere precoce cioè tuo figlio ha bisogno a due anni di avere un intervento serio e strutturato non aspettare che fa sei anni sette otto perché io inizio da sette a fare un percorso strutturato fino ad allora ho fatto un po' di tutto fino a che ho capito quale era il vero percorso quindi quella fase di aiutare i genitori da uscire da quella da questo gap da questa solitudine è importantissima e noi li dobbiamo aiutare tutti quanti noi dobbiamo partecipare ad aiutare loro a capire che non abbiamo bisogno di essere giudicati ma noi vogliamo insieme fare un percorso siamo quasi in chiusura a livello locale così come a livello nazionale quanto la politica il mondo dell'associazionismo intendo il mondo dell'associazionismo ha a tutto tondo il sociale è vicino a un fenomeno del genere quanto invece sotto questo aspetto bisogna ancora alzare l'asticella sicuramente dobbiamo alzare l'asticella stiamo molto indietro siamo molto indietro perché noi dobbiamo come dicevo prima le istituzioni spesso non riescono a percepire il discorso del lavoro insieme questo alcune scuole isolane per esempio sono veramente ci seguono tantissimo noi seguiamo loro tantissimo dove abbiamo creato questa rete ma questo è un aspetto che noi io ci questo è l'unico modo per poter veramente aiutare tutti i ragazzi così lavorare insieme anche le istituzioni spesso pensano insomma il percorso viene strutturato chiusi in una stanza a fare un certo tipo di terapia buona media insomma come sia ma questo non è non è il percorso giusto il percorso giusto è andare insieme tutti e coinvolgere tutte le figure che partecipano alla vita del bambino perfetto grazie grazie a Pasquale Schiano per aver partecipato a questa puntata della strada giusta grazie a Tommaso Cutellese come al solito ne ha curato regia e parte tecnica e grazie soprattutto a tutti quanti voi per averci seguito arrivederci ai prossimi giri di giostra sempre su Nuola TV canale 80 del digitale terrestre buon giorno